Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video So come oggi tornati sul nuovo gioco Un piccolo gestionale chiamato Sunset Kingdom Molto carino, ho provato un po' Il nostro obiettivo è di formare un grande regno Iniziando su un'isola a caso Su un'ancipena, su più isola, su una donna a che posizione Dove dobbiamo creare il nostro grande regno E trasformare questa piccola città in qualcosa di molto più grande E di molto più importante Che nome di merda, complimenti Mi risoce Allora, costruiamo innanzitutto una fattoria E un campo tagliandigna Perfetto Andiamo qui Allora, il nostro obiettivo è di Innanzitutto, adesso, che abbiamo 10 persone su 10 Ammettiamo un po' la tassa Dobbiamo creare Una fattoria per procurarci cibo Per la nostra gente E il campo del italiano regno Per poter costruire altre cose Antiedifici Ammettiamo un po' in game speed La velocità del gioco Possiamo Non si può mettere in pausa Ah, ok Abbiamo finito di costruire Togliamo un attimo questi Mettiamo Perfetto Abbiamo anche i pack Possiamo aggiungere ad esempio Questi pani per impeccaggione Che diminuiscono le chance di liberi Ma Propriano la morte Della nostra gente Allora, innanzitutto Vediamo di costruire Un'altra fattoria La mettiamo La mettiamo Qui Mettiamo qui Mettiamo anche Ah, noi abbiamo abbastanza monetine Va bene Mandiamo i bing Per accostruire Nate La mettiamo a buona velocità Bene Fanno in giro Giro Togliamo la perfira Cambiamo i soldini Queste monetine In contatto Ma Da qua non si può No Va bene Togliamo di nuovo E ci mettiamo Altri Due Farmers Perfetto Ora Potremmo fare Potremmo fare Outpost Non si può fare Che deve Stare Sull'incrocio Fish and dogs No Perché non c'ho abbastanza Solti Possiamo fare questo No Posso fare un gaz Bene Quindi dobbiamo aspettare È un giochino molto interessante Molto interessante Perché Non è così facile Come sempre Perché Adesso si è facile Perché noi abbiamo una città Poca gente Sappiamo come gestirla Ma quando poi Avremo altre città Dobbiamo gestire Le altre persone Damandare Questi edifici Che ne abbiamo già O costruirne altri Dobbiamo costruire Bisogna correre In questo gioco Questo giochino Perché Lo sommato Giochino Nel senso positivo Della prova Perché può sembrare Semplice Ma fidatevi Vendo amore Possiamo anche Cominciare Ma per ora Non ci serve a niente Sono off mind Bene 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 Il pack Mi sembra un po' Io devo sapere Qua ho Onestamente Facili di metterci Dovremmo costruire Questi edifici Ma No no Togliamo il builder Da qui Abbiamo 10 monete D'argento Che ne utilizziamo Per Il quarry La miniera Dobbiamo fare Dove Qua Facciamo qua Ok Appena Riceverò I soldi Farò una strada Intanto mettiamo Già i build Ecco I soldi Facciamo Le strade Perfetto È un gioco Abbastanza Nento An inizio Anche se Il mio consiglio È di Di non andare Subito In quarta Cercare di costruire Il più possibile Ma Siamo affamati Ma cazzo Abbiamo costruito Un'altra fattoria Ho un'altra fattoria Ho un porto Perché il porto Non è male Come potete per vedere È un giochino Molto Molto Relassante In cui poche volte Abbiamo dei problemi E Più Sembra Non esserci Non sembra Non esserci Diante i problemi Perché abbiamo Solo una città Vediamo se possiamo fare Qualche altra cosa In questo video Per farvi capire Un po' Meglio il gioco Altrimenti È solo Come dire Un'esplorazione Del gioco È giusto Per portare Qualcosina di più Se dovessi fare Una sorta di recensione Dovrei dire Che È un giochino Molto interessante Perché È molto rinassante Non è difficile Come sembra Ma Non è neanche Tanto facile Diciamo che È un livello medio È un livello medio Perché se tu sai Come gestire Una città in generale Sai cosa fare Sai cosa fare Senza nessun problema Però Aumentando Le dimensioni Di lettore Che mi arriveranno Problemi maggiori Come può essere Come dei banditi Come può essere Come una fama Come può essere Come una disoccupazione Che sembra non esserci Ma Fidati di che c'è qui E se mi magari Aveva ad esempio Due di popolazione Disoccupata Così quando dobbiamo Costruire qualcosa Mettiamo quei due Builder Quei due costruttori Che abbiamo fatto È un gioco Molto interessante Nei pack Possiamo anche Ecco vede ad esempio Qua Stoneworks Che fai Tenei privi? E no che non Tenei privi Questi pack Sono molto importanti Perché ci permettono Di migliorare In questo caso I nostri Vanno di difesa Induce Indanno Dei sacchi E giri vichinghi Una cosa Molto interessante Poi vedete Se riesco a costruire Qualc'altra cosa Con sei Acqua Poi c'è il palazzo La nostra residenza Che ci sblocca La cerimonia Di coronazione Poi ci sta il castello La residenza Dei cavalieri Che fanno parte Dell'esercito Poi c'è andava Un posto Che vorrei far Però ancora non lo posso Perché serve un incrocio Voglio fare un porto Un fishing box Che non è male Se non penso Mettiamo i build Ecco qua Vediamo se ne escaffa La cosa del genere La musica è anche molto Una sanda Quindi Induce a giocare Perché ti dà Ah eccomi si fa i punti Oh Perfetto Oh Finalmente Però non lo posso fare Perché non ho le risorse Però abbiamo fatto il porto Quindi Vediamo questo Mettiamo Facciamo così E qua vedete Una bracchetta va E inizia a pescare Allora dobbiamo creare un ingrocio Perché creare una bambusa Quindi Facciamo una bambusa Quindi adesso lo potrei fare No Perché non ho capito C'è un ingrocio Dobbiamo fare un ingrocio Dobbiamo fare un ingrocio Hai vedete Qui si può fare un ingrocio Perfetto Andiamo a A venticinquesima Luna E ci fermiamo Giusto per vedere La costruzione Qua Mettiamo Il cilipo Come tasse Che Abbiamo bisogno Adesso Ti andiamo meglio Per noi Eh Sì Si L'acqua Cos'è Ma Sì Vai Acqua Cos'è Tant'inora Che Cos'è Non No Mettiamo Cosa No 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 possiamo costruire una segheria, perfetto, ottimo, una segheria, possiamo fare gli assi di regno per fare il ponte e io ce ne metto, ah facciamo ne 5 di assi, così vediamo anche il ponte, quindi come vedete per vedere non è un giochino tranquillo nel senso non è, ma deve essere bravo anche tu a gestire le risorse, a gestire la popolazione, a gestire la difesa del tuo regno dagli attacchi, a vedere quanto produrre le risorse e quanto altro, ragazzi, vale la pena. a comprare questo gioco? Sì, per due motivi, per tre motivi, il primo se ti faccio vedere che ti essi, il secondo perché a poco prezzo, e adesso ci sono i saldi di steam, e poi perché è un gioco rinassante, non abbastanza impegnativo, ci si può rinassare, quindi perché no, una prova, facciamolo, e io vi consiglio l'acquisto di questo gioco, e qua c'è la ponte, e qua c'è il ponte, ah, achievement è sblocato, sono 10 achievement, bellissimi, la fama delle patina in gioco, greve, e ragazzi, arrivati alla trentesima luna, io mi fermo qui, Scusso, se il gioco vi è piaciuto, ditemi se volete che io continui questo giochino, io vi consiglio un acquisto di questo gioco, questa è anche una sorta di mini recensione, perché io ho esplorato il gioco, mi è piaciuto molto, vi consiglio un acquisto del gioco, perché è anche a poco prezzo, ragazzi, che vi devo dire, se volete che io continui questo gioco, scrivetelo nei commenti, e come non vi piace, e niente, grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo, ad un prossimo, ciao ragazzi. Grazie